Nei primi cento giorni la prima cosa che faccio è di incontrare, ascoltare, andare nei quartieri, camminare, capire meglio il contesto nel quale deve essere radicato il museo. Questo per me è la prima cosa da fare e all'interno del museo io sto adesso parlando con tutto lo staff, io devo capire meglio anche le cose che sono già in corso per poter progettare una nuova programmazione sulle base delle cose che sono già state fatte, che sono di altissimo livello.